E' una iniziativa molto bella, molto simpatica, molto allegra e soprattutto molto giovani perché vediamo che gli ospiti sono in età proprio adolescenziale. Siamo contenti di ospitare queste manifestazioni che naturalmente partono da una nostra volontà di aderire a questi bisogni che ci sono da parte del territorio, questa nostra volontà è molto determinata in questa direzione. Il secondo elemento è che abbiamo a disposizione dei contenitori che si prestano, hanno una flessibilità enorme e quindi possono essere strutturati secondo le esigenze di una domanda che può avere mille bisogni. Il terzo elemento è che il nostro territorio è un territorio che ha questa vocazione e questa spinta verso la salute, il benessere e la pratica sportiva. Siamo fuori dal nostro core business, il nostro mestiere è ovviamente un altro ma questa è un'attività che facciamo con grande trasporto e io dico anche con un pizzico di generosità.